salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video quest'oggi andiamo a vedere l'ultima modalità della cacquatrice ovvero la modalità table andremo a creare subito una funzione in pratica la nostra funzione non sarà altro che ad esempio f di x uguale facciamo 6 x più 2 ok ora dovremmo scegliere l'intervallo io voglio farlo parti appunto da uno quindi per x che vada 1 e finisce a 6 io voglio tutti i valori di x da 1 a 6 vediamo subito gli step cioè quali valori voglio io voglio ad esempio 12 oppure 11,5 dovevo impostare quagli step io li voglio da 0,5 ecco qui che la nostra bellissima calcolatrice ci avrà dato tutti i valori che assume la nostra funzione per gli step impostati a cosa serve a tutto ragazzi a disegnare fare i grafici a tutto fare tutto ragazzi non avete una calcolatrice grafica costa un occhio della testa ci credo che non l'abbiate ma questa non costa nulla e vi permette di fare dei grafici a mano ma vi fa fare dei grafici quindi ragazzi io credo che questa sia davvero interessantissima come funzione perché ad esempio studi analisi 1 una volta che volete andare a fare una funzione a voi cosa fate mettete la vostra funzione qua sopra e vi consiglio di fare una cosa del genere start meno 5 and 5 step 1 in pratica così facendo vi prendete e andare a vedere f di x praticamente solitamente dico solitamente andremo a vedere più o meno l'andamento con l'intersezione degli assi cartesiani ed è lì che magari ci sono a volte degli asintoti strani e cose da dover studiare ok quindi disegnando la funzione per punti in questo modo potremmo andare a vedere se il grafico che abbiamo fatto studiando la funzione è davvero quello che dovremmo trovare quindi ragazzi io spero che il video vi sia stato utile che tutta la serie vi sia piaciuta e intanto vi passo a soltare in una versione frontale ok ragazzi come dicevo io spero che la serie intera vi sia piaciuta spero che vi piaccia nel caso continuate a guardarla nei video che trovate nella playlist noi ci vediamo in un prossimo video e fatemi sapere se la serie e in particolare questo video vi è stato utile per andare un po meglio a scuola per capire come funziona la vostra calcolatrice vi ricordo che il modello della calcolatrice è una casio fx 570 es plus ma diciamo che si trova intorno alla ventina di euro su amazon nei negozi e guadagnare in tanta salute ragazzi ve la consiglio tantissimo spero che il tutto vi sia piaciuto fatemelo sapere iscrivendovi al canale e lasciando un commentino qui sotto ciao